Ho fatto sei film con Cristaldi, era il mio produttore, era un grande produttore, un produttore straordinario, tutto impostato sulla qualità, era un intellettuale che faceva il produttore, ma con tutta l'attenzione era... Io mi ricordo che facemmo un film con lui che era Gli Indifferenti, che avevano tutti gli attori americani, Rod Steiger, Shelley Winters e Paulette Godard e la cardinale, che era la sua moglie e la sua, come si diceva, attrice contrattata da Davides, dalla sua società. E mi ricordo che il film era finito, doveva uscire a settembre con la Luxfilm, finalmente facciamo il mixage finale, tutto con la musica, tutto eccetera. E Cristaldi, mi ricordo che mi diceva, sì però la voce della doppiatrice che fa Shelley Winters, è una voce che non è giusta, non è gradevole. E io, forse, sì forse hai ragione, sì, però non si poteva, il film doveva uscire era finito. E Cristaldi, per dire come era un produttore, che tipo di produttore che era, disse, no, sono cinque personaggi, devono essere perfetti, tu hai fatto una recita, li hai fatti recitare in modo straordinario. Il film è venuto bellissimo, bisogna, se lui interrompe la, rimando all'uscita, alla stagione prossima, pagando una penale alla Luxfilm, una penale forte, per ridoppiare, facendo i provini a un'altra attrice, un personaggio, e soltanto quando, poi che voleva dire rifare tutto il mixage, era una cosa, ad ora poi non c'era ancora il magnetico, quindi era tutto con la pellicola sonora, che andava sempre in sviluppo e stampa, costoso e lungo i processi. E lui, ma per dire perché non lo convinceva lui, io ero il regista, io ero molto esigente, quindi se andava bene a me, uno dice, beh, era il regista, però mi convince lui a me, mi convince, è vero che aveva, non voglio fare un nome, ma era una doppiatrice che non aveva, non era giusta, insomma, per il personaggio, che era un personaggio negativo, che però aveva un'anima buona, questa Shelley Winters, l'ISA, nel film. Ma per dire com'era un produttore, un produttore, che oggi si è presso lo stampo proprio di questi produttori.